Potrebbe esserci la mano dell'andrangheta dietro l'omicidio di Giuseppe Opperisano, il 24enne incensurato ucciso lunedì scorso in una zona di campagna e località Prateria, a San Pietro di Carità, paese del Regino, al confine con la provincia di Vibo, Valencia. Le modalità dell'agguato con l'attesa del sicario o dei sicari, visto che non è stato ancora accertato se a sparare sia stato uno o più persone, e l'arma utilizzata propendono ad indirizzare le indagini verso questa pista. Inoltre c'è da aggiungere che il padre della vittima è noto alle forze dell'ordine ed è rimasto coinvolto in passato in indagini sulla criminalità organizzata, anche se non ha mai ricevuto una condanna. Anche il settore lavorativo è un elemento che fa riflettere gli investigatori. Quello dei boschi è molto appetito dalle cosche nel Regino. In passato ci sono stati delitti originati dal contrasto per il controllo del taglio del commercio del legname. Tutti elementi che potrebbero spingere i magistrati della Procura di Palmi, che stanno coordinando le indagini, a trasmettere il fascicolo alla DDA di Reggio Calabria. Al momento però nessuna altra ipotesi viene scartata. Il padre della vittima, insieme con i due fratelli ed alcuni familiari, sono stati sentiti dai carabinieri e dal procuratore aggiunto di Palmi, Santo Melidona, per cercare di capire se la vittima potesse essere entrata in contrasto con qualcuno e ricostruire le sue ultime ore di vita nella speranza di trovare indicazioni utili per indirizzare le indagini verso una pista ben definita.